Partiti cavalli della sesta corsa Dall'interno Uraxos deciso ad andare in avanti e ancora più all'esterno però trova l'opposizione sia di Raddad che Private Equity che comunque si adegua poi un ventaglio di altri partecipanti tra cui Love My Love, Prince Red, Freedom Day, Blasius, Special Rush, Sir Mario Ancora No Beads Like This Beads e a chiudere il gruppo c'è il favorito Multicolors Raddad l'ha presa Allegra con la prima curva affrontata almeno con 5 lunghezze di margine Ha preso la mano al suo interprete in particolare Ricardo Iacopini, in seconda posizione c'è Uraxos che invece è ovviamente adeguato, in terza c'è Private Equity In quarta posizione troviamo anche Prince Red a precedere Love My Love e ancora Freedom Day Poi a completare il quadro Sir Mario Multicolors No Beads Like This Beads ed ancora Blasius Sono almeno 15 le lunghezze di vantaggio di Raddad quando siamo all'altezza del rudere In seconda posizione c'è ancora Uraxos, Private Equity, Prince Red, Freedom Day e ancora più all'esterno in sesta corsia Special Rush a precedere Sir Mario No Beads Like This Beads, in questo momento in difficoltà c'è Blasius, poi Love My Love, Raddad è ancora in vantaggio ma si è ridotto un pochino il gap Quando i cavalli vanno a affrontare l'ultima curva nei confronti di Prince Red che è il primo a farsi sotto insieme a Freedom Day Poi si avvicina anche Private Equity, dalle retrovie arriva Sir Mario Special Rush, No Beads Like This Beads Anche Multicolors per corsie più interne e poi ancora tutti gli altri che in questo momento non sono della partita Raddad è rifiatato e adesso è entrato indirittura ancora in vantaggio pronto a dare un nuovo strappo Prince Red che si getta all'inseguimento più al centro della pista ci prova anche lo stesso Freedom Day Tra questi Sincunea Multicolors, all'esterno c'è Sir Mario, poi No Beads Like This Beads Alle cui spalle agisce lo stesso Special Rush con i cavalli che devono percorrere circa 400 metri di gara Raddad è praticamente fermo e allora dall'esterno ci provano cattivi Multicolors Sir Mario e ancora Prince Red con Special Rush che ci prova insieme a No Beads Like This Beads che si mette in marcia Multicolors in questo momento è in vantaggio nei confronti di No Beads Like This Beads, Freedom Day ma Multicolors che la sigla nei confronti di No Beads Like This Beads è Freedom Day Bella andatura servita sul piatto d'argento la corsa Multicolors che è un cavallo di categoria Samuele e Diana in sella al doppio in giornata, il training e i colori sono quelli di Jacopo Bindi Quattro al primo posto, vediamo per le piazze Chi l'ha risolta? Sicuramente ci sono No Beads Like This Beads e Freedom Day Vediamo chi dei due ha preso il posto d'onore Secondo me No Beads Like This Beads ma chiaramente c'è materia per il giudice d'arrivo L'ordine d'arrivo ufficioso numerico probabile di questa corsa è 4-8-3 Tra questi c'è anche Sir Mario ma dobbiamo attendere il verdetto giudice d'arrivo Nessun dubbio su Multicolors che ha così conquistato la vittoria numero 14 della sua carriera C'è lotta per le piazze e tutto anche per la sesta